Dopo le visite mediche di Rito di Gregorio tocca a Alicia Lehman, la ragazza, la compagna di Douglas Lewis, ufficializzato settimana scorsa. Queste sono le immagini del suo arrivo al J Medical, è davvero un grande acquisto a livello social e marketing, ma anche a livello d'estetica, devo essere sincero, non è niente male. Detto questo, fino alla fine, sempre e solo, Forza Juve!